Tredicesimo, corner di Prizza, alza di testa Todesco, calcio al volo, Pasciullo, palla sugli spalti. Al dicesettesimo, la rete bergamasca, crossa di Madonna per De Patre, che batte Paradisi con un potente diagonale, 1-0. E grande, grandissima la gioia di De Patre per questo fortunatissimo esordio in Serie A. Al ventesimo, Lorenzini crossa per Corneliuson, ma contratto di testa mette in angolo. Sul corner successivo, battuto dallo stesso Lorenzini, palla a Biondo che tira. Ferron si salva in due tempi, vedete che Simone tentava di carpiri la palla. Ancora corner al trentatreesimo, ma Coppi salta più alto di Serioli, ma il colpo di testa è fuori bersaglio. Infine, allo scadere del primo tempo, su cross di Serioli, Madonna colpisce un po' debolmente e Paradisi non ha difficoltà a neutralizzare. La nostra classifica ci obbliga a fare risultato e magari il discorso della vittoria di vincere 1-0 può anche preoccupare più di altre volte nel contesto della gara. Questo penso succeda a chi magari si trova in queste altre sfere abbastanza inaspettatamente.